Scusate, come cita una nuota canzone, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E' proprio la storia della grande serie televisiva firmata Canale 5, Cesaroni, che molto probabilmente nelle prime settimane, quindi si pensa tra gennaio e febbraio, potrebbe, potrebbe, dovrebbe ritornare in onda sugli schermi di Mediaset. Con la settima stagione della tanto citata serie amorosa, romantica e anche per certi versi, per alcuni tratti, drammatica, sempre dal punto di vista sentimentale, che ci ha tenuto incollati, sì, dalla prima alla sesta stagione sugli schermi, per tutte le puntate. Ovviamente per non parlare poi delle primissime stagioni straordinarie. E' dalla fonte da cui leggo che nelle sei stagioni, quindi trasmessi fino a questo momento, gli episodi sono stati 146, ovviamente targati, pubblici, spiei e trasmessi sul Canale 5 dal 2006 al 2014. Ovviamente i protagonisti, come vedete anche nella foto di immagine di copertina, anche nella settima stagione, saranno Claudio Amendola, Giulio Antonello Passari, Cesare, Max Tortora, il famoso Ezio Masetti. Ma purtroppo non rivedremo in questa settima stagione Elena Sofia Ricci, che nella serie moglie di Giulio, cioè Claudio Amendola, e purtroppo neanche Micolo, Olivieri, Alice, sorella di Marco e Mimmo, Eva, neanche lei ci sarà la Mastronardi, però questo non vuol dire che la serie non sarà bella, anzi, come anche ho letto nei giorni precedenti ad oggi, che si manterrà il filo logico mantenuto dalle stagioni precedenti riguardo un po' al clima familiare con Lucia, che era interpretata da Elena Sofia Ricci, che faceva la moglie di Giulio. Staremo a vedere ovviamente i vari intrecci amorosi che ci saranno in questa nuova stagione, che speriamo sia nel narrativo che per quanto riguarda gli ascolti siano belli, importanti, perché non vi nascondo che tra le mie serie preferite di livello nazionale vi sono i cesaroni e ovviamente non possono mancare che ho un medico in famiglia con nonno libero, Lino Banfi, diciamo che ci sarebbe anche Don Matteo, diciamo io sono particolarmente legato soprattutto ai cesaroni, che è un medico in famiglia, quindi iniziamo a scaldare i motori anche perché la stessa Mediaset in queste serate su Cine34 ci sta facendo rivivere le prime stagioni che vengono trasmesse appunto sul canale prettamente cinematografico e quindi televisivo di Mediaset ogni sera intorno alle 18.50 più o meno fino alle 21, minuto o più, minuto o meno circa, quindi penso che io a chi come me è appassionato di questa serie curiosissima di vederla, ovviamente per chi mi metto tra questi per un motivo o per un altro magari la sera il sonno diciamo ci coccola da subito, le puntate ovviamente saranno reperibili legalmente, mi raccomando legalmente su Mediaset Infinity, quindi sulla piattaforma come anche per la Rai, che è Rai Play, bene noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, buon fine settimana e viva i cesaroni, ciao!